oggi è complicato perché non perdevamo da tanto e quando non si perde da tanto a riassaporare questi questi momenti è brutto molto brutto perché ti rode ok e perdere così in rimonta è ancora più brutto sinceramente soprattutto dopo che hai fatto comunque 60 minuti buoni secondo me vi saluto così cominciamo subito ciao a tutti allora parma che vince 2-1 sul Cagliari gol primo di La Padula rimonta di Vasquez e di Dennis Mann allora come stavo dicendo quindi 60 minuti secondo me del Cagliari buoni 60 minuti dove abbiamo creato tanto dove abbiamo segnato il gol del 1-0 dove siamo stati nella partita dove abbiamo fatto la partita secondo me perché a livello di occasioni dove siamo entrati in area di rigore dove siamo riusciti a trarre la palla dove siamo stati insomma meglio del Parma secondo me per 60 minuti lo siamo stati ok ai numeri siamo stati meglio del Parma poi dopo l'episodio del calcio di rigore ci siamo completamente spenti calcio di rigore che vogliamo dirlo molto generoso per me non c'è però se proprio vogliamo dirla è molto generoso perché dico che è molto generoso ma non perché Azzi non abbia colpito la palla con la mano è palese che Azzi abbia colpito la palla con la mano si vede benissimo ma uno era da girato seconda cosa era vicino troppo vicino per levare il braccio terza cosa basket se lì da lì non penso che sarebbe andato veramente a far gol poi il fatto che il movimento sia poco congruo lì ne possiamo discutere ma è ovvio che non sia congruo però ragazzi ci sono stati calci di rigore che non sono stati fischiati per una cosa del genere no quindi capite bene poi dopo il gol del Parma dopo il calcio di rigore di Vasquez in Cagliari non ha più giocato praticamente non abbiamo più giocato perché anche gli ingressi il campo di Luvumbo di Pavoletti di Lella di Lella che ha fatto solo danni di Luvumbo che è entrato per fare falli di Pavoletti che non è al top della condizione morale della favola non abbiamo fatto praticamente nulla per 30 minuti cioè l'ultima mezz'ora ragazzi non l'abbiamo praticamente giocato poi è arrivato il gol di Mann che ha praticamente chiuso tutto calcio di rigore poi sbagliato da Miaila che ha provato a fare il coatto se l'è presa in quel posto però fa male perdere così ragazzi fa male fa male tantissimo perché io dico una cosa nel calcio hai due filosofie ci sono due filosofie per il quale tu le partite le puoi vincere o non vincere e sono due uno è la compattezza difensiva e l'altro il cinismo in attacco la compattezza difensiva tutto il resto tutto il resto oltre a questo non serve per vincere una partita servono queste due compattezza e cinismo la compattezza per 60 minuti l'abbiamo avuta ma in generale il Parma siamo stati abbastanza bravi a contenerli poi il gol di Mann lì abbiamo fatto le belle statuine cioè lì abbiamo fatto veramente i giganti di Monteprama che hanno fatto la presentazione a Parma per intenderci però in generale la difesa ha retto anche oggi anche nonostante i due gol presi e nonostante il fatto che nelle recenti partite diciamo che siamo stati abbastanza solidi a livello di coppia difensiva infatti secondo me Dossene e Obert neanche oggi hanno fatto tutti questi danni però chiaramente sui gol hanno delle colpe soprattutto il secondo cosa stavo dicendo che mi sono perso quindi sì compattezza difensiva e cinismo il cinismo che il Cagliari non ha mai avuto per praticamente la stagione iniziata ad agosto agosto settembre ottobre novembre dicembre febbraio marzo aprile per nove mesi io credo di non aver mai visto un Cagliari cinico o almeno salvo i rari casi e per cinismo io intendo che si riesca a capitalizzare non dico tutte le azioni però in qualche modo che si riesca a capitalizzare più o meno una buona mole di di occasioni che hai il problema è che il Cagliari non è cinico per una questione di principio perché il Cagliari non tira in porta il Cagliari non tira in porta nessuno che prende l'iniziativa nessuno che prende veramente il lo scettro in mano tra molte virgolette e dice basta io tiro verso la porta dai 30 metri dai 25 dai 20 ragazzi si può tirare anche da fuori aria cioè non è illegale provare una conclusione verso la porta da fuori abbiamo giocatori che possono tirare da fuori De Iola che è molto criticato da tutti quanti in maniera abbastanza anche eccessiva per la sua titolarità oggi ragazzi De Iola è conosciuto per essere un calciatore che a livello di conclusioni verso la porta è un discreto giocatore perché non lo vediamo più tirare da fuori? cioè io mi ricordo benissimo il primo gol che fece De Iola con la maglia del Cagliari era un destro dai 30 metri pauroso Cagliari e Crotone hanno 15-16 proprio in serie B ma anche giocatori un po' più tecnici come Falco un giocatore come Nandez un giocatore come potrebbe essere anche lo stesso Lella come potrebbe essere Luvumbo come potrebbe essere Praelec cioè abbiamo giocatori per fare gol anche un po' più del singolo perché non sfruttiamo questa cosa? cioè perché ci dobbiamo ostinare a mandare in porta la Padula che va benissimo cioè la Padula ragazzi è la nostra punta di diamante in questo momento senza di lui siamo persi perché 17 gol di la Padula non so adesso quanti ne abbiamo fatti in tutta la stagione ma la Padula ne avrà fatti almeno un 30% almeno se non addirittura di più cioè senza la Padula questo Cagliari è praticamente poco e nulla a livello realizzativo senza appunto la Padula e senza magari anche Mancosu che ok che non era al top ok tutto quanto ma adesso l'infortunio di Mancosu pesa e pesa tantissimo perché se dobbiamo fidarci a Falco che ragazzi non sto dicendo che hanno giocato male cioè secondo me Falco non ha giocato una brutta partita Nandes non ha giocato una brutta partita Prelic non ha giocato una bruttissima partita ha fatto pure l'assist però a livello di concretezza rimane poco oggi rimane poco in campo cioè abbiamo fatto una buona partita? sì rimane qualcosa? no no perché ai punti abbiamo perso 2-1 ed è questo ciò che conta alla fine perché oggi tu potevi permetterti tutto ma non di perdere perché adesso il Parma ti ha superato in classifica il Parma sta a 51 punti il Parma è più vicino al quarto posto che questo è il nostro obiettivo dobbiamo andare a prenderci quel benedetto quarto posto Ranieri l'ha confermato insomma mi sembra che sia abbastanza chiaro l'obiettivo della società ormai quello di raggiungere il quarto posto per avere un posto migliore scusate la ripetizione ai playoff il problema è che ci fermiamo qua ci fermiamo a queste partite giocate a metà contro un Parma che non ha giocato male ragazzi il Parma pure ha fatto un'onestissima partita ma era un Parma secondo me abbastanza battibile da noi specialmente per ciò che si è visto nel primo tempo poi nel secondo l'ingresso di Camarà, l'ingresso di Denisman, l'ingresso di Mihaela Vasquez che si è acceso cioè anche il Parma ha dei giocatori di qualità ma noi potevamo fare molto di più di così potevamo assolutamente fare molto di più di così adesso niente torniamo a Cagliari con questi zero punti adesso aspettiamo i risultati delle altre ma io credo che la situazione si sia complicata e non poco perché adesso ci restano quattro partite abbiamo Perugia, Ternana, poi c'è il Cosenza insomma ci restano un po' delle partite semplici però comunque delle gare che tecnicamente il Cagliari dovrebbe essere in grado di vincere almeno sulla carta poi il campo ragazzi ha sempre ragione Perugia, Ternana, Cosenza, adesso non ricordo Palermo, ecco Palermo quindi sfide importanti che il Cagliari dovrà essere bravo a portarsene a casa questo sicuramente adesso niente poi adesso Falco, no? voglio ritornare un attimo su di lui poi chiudiamo Falco è un giocatore che ha dei colpi secondo me straordinari sulla carta è un giocatore molto forte tecnicamente che nel primo tempo ha giocato molto bene ma cosa lo differenzia da Mancosu? Mancosu è decisivo Mancosu è decisivo a livello realizzativo Mancosu ti può tirare fuori quel gol da fuori aria ti può tirare fuori quel gol su punizione ti può tirare fuori quella giocata, quell'imbucata per la padula Falco andate a vedere il tabellino di Falco zero gol e zero assist zero gol e zero assist cosa significa questo? che è un giocatore poco incisivo e quindi se vuole veramente restare in questa squadra deve sbrigarsi, deve fare qualcosa deve muoversi un attimo deve essere più decisivo, deve essere più incisivo così come deve esserlo di più Nandes così come lo deve essere più De Iola tutti quanti dovevano essere più decisivi perché non ci si può affidare soltanto alla padula che veramente oggi una palla gli è arrivata una palla decente gli è arrivata la padula e non ha sbagliato poi ci sono state partite in cui anche lui ha avuto 3-4 palle gol e non ce l'ha fatta però oggi veramente una palla buona un gol l'ha fatto questo sicuramente però anche gli altri devono essere più incisivi detto ciò fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita io vi saluto forza grazie a tutti sempre e ciao ciao